ecco il filetto aspettiamo che la piastra sia calda che riscando anche la pasta buona sera a tutti e tutti mi sto preparando la cena ecco qua accendo gli strutturi mentre che la pasta sembra già riscaldata e poi qua ci ho inizialata da lavare la pasta sono penne penne saltate in padella di ieri un avanzo acqua attra attra Acqua, vino di arco, giusto un dito. La pasta è riscaldata, non è venuta, non è giocata. Dostante. Buono. Sapore nerofumo. Era formaggio. Ci sono forse per il nostro caso. Sperre. 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 Saure. Sperre. Voi. Sperre. Poi. Grazie a tutti. 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 Facciamo... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Tutto l'olio. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.